E lui? Eccolo, scusate, è lui perché Gabriele Abbiati è arrivato, consigliere comunale della Lega, bentornato, è la prima volta che viene ai quartieri, quindi benvenuto a questo programma dei quartieri, speriamo che sia l'inizio di una serie infinita, l'altro ospite è il capogruppo del PD che non so se è lui che ha citofonato, perché qua sentiamo il citofono come a casa, è lui? Ok, quindi sta entrando, da cosa partiamo Jacopo? Abbiamo parlato della ciclabile, abbiamo detto che il primo viaggio, poi andremo da tutt'altra parte, però siamo stati in corso di Porta Nuova perché c'è una ciclabile che è stata segnalata anche da parecchi telespettatori, anche da me, non solo telespettatori, anche dalla direttrice, per cui ovviamente siamo andati immediatamente, no, non per questo ovviamente, è una ciclabile simile a quella di Buenos Aires, simile a quella di Alserio, tanto per capirevi Alserio, quindi quella con la pista ciclabile che vedete, il parcheggio delle auto e una corsia sola di auto in marcia, è un senso unico, questo è il fate bene fratelli, parte posteriore, tanto per capire dove siamo, questa è la situazione in orari non di punta. Verso le 10, le 11 del mattino? Sì, più o meno, perché in realtà se fossimo passati di lì e ci abbiamo provato, il problema poi ne parleremo in un'altra puntata dei quartieri, è che lì non ti riesci a fermare mai lì, non solo lì, ma in tutto il centro di Milano, ormai purtroppo, per questioni parcheggi, eccetera. Comunque, le code si formano anche in orari non di punta, oggettivamente, perché si forma un imbuto, perché questa via arriva in piazza Principessa Clotilde e poi sfocia sui bastioni, a destra vai verso Porta Venezia, a sinistra vai verso... Prima della ciclabile passavano due macchine, c'erano due, e quindi chiaramente il traffico... C'era il parcheggio a spina di pesce e le macchine che passano... E quindi il traffico era un po' più fluido, adesso si crea l'imbuto e c'è questo perché, appunto, a causa dell'esistenza di questa pista ciclabile. Poi vedremo anche delle immagini di altre piste ciclabili nei dintorni, sono quelle soprattutto di Piazza della Repubblica, ovunque i bastioni, e le vedrete, che hanno comunque creato anche quelle, molta polemica, tempo addietro. La zona è praticamente sempre quella, eccola qui, questa è quella. Questa è anche non solo per l'ingorgo. Questa è con il cordolo e con tutto, sì, soprattutto per l'ingorgo, sicuramente, e poi perché dicevano all'inizio che passassero veramente pochi mezzi a due ruote, adesso io devo dire che... No, adesso non passano. Adesso stanno passando di più. Quindi si è creata l'abitudine di passare questo, l'uso crea l'abitudine, no? Però la polemica sul caos creato dalle ciclabili è arrivato il primo messaggio immediatamente ed è con queste ciclabili, è un caos unico per cui abbiamo capito. Abbiati, parti tu. Oggi, tra l'altro, questa piste ciclabile l'ho fatta. Quella lì? Puoi dire questa, sì, sì. Ah, ma quindi tu sei un ciclista? Io prevalentemente mi muovo. Grande, mi piacciono i centrodestristi. Non esiste, però va bene. Ciclisti mi piacete. Io, è chiaro che per i tempi che per fortuna ho, mi è permesso di utilizzare la bicicletta piuttosto che il mezzo pubblico, quindi sicuramente le utilizzo volentieri. Capisco però ovviamente tutte quelle persone che per necessità di orari abbiano bisogno di utilizzare mezzi che gli permettono degli spostamenti più veloci. Questa pista ciclabile oggettivamente ha poco senso perché con tutte le altre vie che ci sono nei dintorni, aver progettato una pista ciclabile su questa arteria che poi va a finire fondamentalmente dove c'è il Palazzo Parigi, insomma, sulla circolazione poi interna, ha veramente poco senso perché finisce veramente nel nulla. La finisce a Brera, comunque poi sul pavé, se si gira verso destra. Che quindi è anche più pericoloso. E quindi è pericoloso lo stesso. E di fatto io l'ho fatta e non veramente, tutta la percorrenza c'ero solo io e quindi non mi sembrava proprio una di quelle priorità. Come tante altre che sono state tracciate, mi viene in mente Corso Buenos Aires, lo posso dire. Ma il problema principale in questo caso di questa specifica è, secondo te, che non serve, tu dici, perché alla fine o che si crea il rallentamento delle macchine? Si crea il rallentamento delle macchine e nel momento in cui è una roba indispensabile può anche avere un senso, si può anche studiarci sopra, a parte che lì c'è lo spazio anche per ridurre eventualmente il marciapiede e quindi dare più fluidità al traffico. Ma dall'altra parte sicuramente devono essere utili. Se sono inutili, a maggior ragione... Quindi è inutile e crea un tappo. È doppio pre... Barberis, per esempio. Stiamo parlando non di quella che stiamo vedendo, giusto? No, quella proprio sulla... Esatto. Quella che da poi siamo partiti. La prima. Perché queste non è che siano indispensabili. Sono tutti degli interventi che, secondo me, prima stavo dicendo che il Corso Buenos Aires l'ho sempre fatto in bicicletta senza paura, adesso ho rischiato di investire già due volte. In Buenos Aires. Sì, perché oggettivamente è strutturata male e quindi è più pericolosa ancora rispetto di non avere... Allora, restiamo su questa Repubblica Fatemere Fratelli, Barberis, perché è utile e perché... Quella è in Porta Nuova. Porta Nuova, scusami, sì. Porta Nuova. Ma intanto sono delle ciclabili molto diverse, perché questa la vedete che ha un tipo di protezione del ciclista completamente diverso. Allora, il punto fondamentale di partenza è che chiunque va in bici in questa città sa che su 10 minuti in cui va in bici è tanto se fa un minuto su una ciclabile. Quindi chiunque usi mezzi alternativi all'auto sa che l'offerta di ciclabili è gravemente insufficiente. Questo è legato a dei problemi anche della struttura urbana rispetto ad altre grandi città europee. Abbiamo troppi pochi parcheggi sotterranei, troppe auto in superficie, le strade troppo strette rispetto ad altre capitali o città che sono state anche completamente ridisegnate nel secondo dopoguerra. Quindi come veniva anche, e credo poi mi dirà Gabriele Abbiati se colgo male il punto, non è tanto il se fare la ciclabile, ma come vengono fatte. Bisogna anche pensare che alcune criticità emergono proprio dalla prova della ciclabile. Quindi la mia posizione è molto laica. Corso Buenos Aires, io non sono innamorato di come è stata fatta la ciclabile. Non è che devo difendere, io difendo la ciclabile come servizio che deve essere fatto. Quella di Corso di Porta Nuova? Sei innamorato o no? Allora, come dicevo all'inizio, quella di Porta Nuova ha una stabilità diversa perché ha una struttura e una protezione e una separazione dalle auto molto più consolidata. Mentre quella di Buenos Aires, vi ricorderete, era stata fatta, non progettata, perché i progetti erano dentro il PUMS già da diverso tempo, ma nell'immediato primo post pandemia, quando volevamo cercare di offrire su alcune arterie fondamentali degli strumenti di movimento alternativi all'auto e al mezzo pubblico. Dobbiamo anche pensare che il traffico di queste settimane non possiamo che puntare a ridurlo e contestualmente aumentando l'utilizzo del mezzo pubblico, perché se, come ci stanno dicendo tutti i dati, questo maledetto virus si sta piegando alla campagna vaccinale, molte meno persone avranno ragionevoli timori di utilizzare il mezzo pubblico. Sono diverse le azioni, tra l'altro l'idea di fondo è che consentire mezzi alternativi, trasporti pubblici potenziati, ciclabili che consentano di muoversi in sicurezza in bici nella città, che ancora è un obiettivo che non riusciamo a raggiungere. Esatto, ancora non c'è. E' qualche cosa che agevola poi il movimento in città di chi deve usare l'auto. Quindi il paradosso, secondo me, che non capisce il centro-destra, è che decongestionare, offrire alternative, potenziali trasporti pubblici, serve proprio affinché chi non può che usare l'auto o altri mezzi anche legati al commercio, si trovi una mobilità meno congestionata. Ma questa è la filosofia. Chiedo un attimo a Domenico Zingaro di rientrare su di noi perché devo leggere un messaggio che è arrivato perché alla fine della fiera, questa è la domanda che si fanno tutti in Via Sembon, si fanno tutti in Buenos Aires se la facevano, se la fanno in Corsi Portanova, ed è questa. In una situazione come quella lì, dove c'è una corsia di macchine che marciano, una riparcheggiata e la ciclabile, dove passa l'ambulanza? Anche perché lì siamo dietro l'ospedale. Esatto. Siamo dietro, fate bene fratelli, è per quello che... Dove passa il corso? Noi abbiamo dei tecnici che, mi permetto di dire, sono i migliori in Italia. Eh ma è via Sembon, questi tecnici... Secondo, non dico di finire il pensiero, di finire la frase. No, ho capito, però ti sto dicendo perché ti ho fatto la domanda. Se uno dice, ma se si parcheggia in terza pila, dove passa l'ambulanza? Quindi è chiaro che la premessa è che se si rispettano le regole, mi sembra che non sia stato pensato dove passa l'ambulanza davanti a un ospedale, ma sarebbe da arrestarci. Cioè andrei io da solo in galera, se non avessi pensato dove può passare l'ambulanza. Quindi evidentemente bisogna capire come il comportamento anche di chi parcheggia l'auto, di chi non rispetta quelle che sono le regole della mobilità tracciata, può impedire l'accesso all'ambulanza. Ma l'ambulanza è progettato perché lì ci passi. Non è che non può passare. Ma se ci sono le macchine incolonnate non può passare. Non può volare. Le colonne di auto, guarda, ci è capitato anche perché molto spesso mi sono trovato anche a discutere con tassisti che in questo periodo hanno dovuto avere dei momenti anche d'attesa più lunghi costruendo degli incolonnamenti molto più lunghi. Quindi il punto è anche lavorare sugli incolonnamenti. Poi io ripeto, se c'è un problema pratico che rispetto al progetto emerge nel momento in cui il progetto è realizzato, si torna indietro e si corregge. In Buenos Aires effettivamente ci sono stati i ritocchi. Ma ce ne saranno anche altri. In via Sembon forse un ritocco andrà fatto e magari anche lì. Adesso su questo poi già mi ero segnato e ho segnalato perché ogni volta che vengo qui a parlare di questioni specifiche faccio il giro degli ucciuti. No, no, certo. Ecco, però su questa cosa adesso vediamo di monitorare. Vediamo di monitorare. Questa è una risposta che mi piace, è una risposta responsabile. Non è che devo difendere a prescindere. No, no, no. Le soluzioni tecniche, bisogna avere l'intelligenza che devi cambiare. Lì e via Sembon la soluzione tecnica l'ho trovata. Giuseppina, vorrei segnalare, va bene la pista ciclabile ma sui marciapiedi dove ci sono i pedoni passano biciclette, monopattine, non ne parlate. Rossano è pieno, è una cosa vergognosa. Via bicicletta, monopattino, attenzione, salgono sul tram con le biciclette. E ok, quindi questo è una... Sul tram con le biciclette in realtà nei mezzi pubblici, soprattutto in metropolitana... Questo sindaco ha rovinato Milano. Sì, esatto. Va bene. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Ci spostiamo nel municipio 4. Quindi mettiamo il titolo 6, per favore. Nel municipio 4 dove abbiamo fatto un giro abbastanza corposo. Le problematiche lì sono soprattutto quelle di occupazioni varie. Una è quella molto famosa, è storica ed è qui all'ex macello. In questa palazzina c'è un centro sociale che è il Macao, che francamente... Viale Molise. Sì, però il problema è che di fianco alla palazzina Liberty dove c'è Macao ci sono altri civici, altri tre civici, tutti occupati da agosto 2020, quando il servizio che c'era, cioè scelta revoca del medico, non c'è più stato. Sono arrivati, pare, non li ho visti, ma pare, soprattutto nordafricani e hanno occupato tutte quelle palazzine. Quindi adesso tutto l'ex macello, non solo la parte dove c'era la borsa dell'ex macello che è occupata da Macao, ma anche le altre. Ma sono edifici pubblici? Sono edifici pubblici, certo. Perché essendoci prima la scelta del medico, certo. Sì, la situazione è abbastanza preoccupante rispetto a chi è lì, perché oggettivamente non è tanto la festa o non la festa. Generano più insicurezza quelle occupazioni di Macao stesso. Sì, questo sì, questo sì. Poi Macao, quando è iniziata tutta la storia di Macao con Torregalfa, aveva secondo me molto senso, perché la denuncia degli stabili abbandonati, poi si sono fermati lì a un certo punto e sono lì da tanto tempo ormai. Però quello che è successo da agosto 2020 accanto è abbastanza preoccupante, francamente. Avete visto che nell'arco di poco si è creata pure una discarica nel cortile, nel giardino di una di queste palazzine. C'è gente che ha paura la sera a passarci vicino, mi hanno detto, perché questi qui non sono neanche pochi. Sì, non è solo una questione di degrado estetico, ma anche proprio di insicurezza. Sentiamo prima lui, sentiamo prima Abbiati. Ma questo è l'ennesimo esempio purtroppo di una stabile di proprietà del comune lasciato a se stesso. Da una parte il comune di Milano ha cercato in tutti i modi di andare a penalizzare i privati, anche magari giustamente per invogliarli a fare un intervento di recupero, dall'altra parte ai propri stabili in queste condizioni. Qua tra l'altro c'era anche il progetto di Reinventing City, anche questo fa parte dei progetti, c'è ancora, che peccato che ha trovato anche sei mesi di prolungamento dei tempi perché purtroppo qualcuno si era dimenticato di chiedere in amministrazione l'approfondimento da parte della sovrintendenza che al giorno prima della presentazione del progetto vincitore stesso ha alzato la mano e ha detto scusate ma noi vorremmo sapere se ci avete interpellato perché secondo noi ci sono delle criticità da andare a rivedere, questi sono degli errori che sono abbastanza gravi. Poi rimane il fatto che va bene, qua il progetto di intervento sicuramente è stato sviluppato anche se sono troppi anni che ha abbandonato, ma ci sono centinaia di immobili comunque di proprietà del comune di Milano lasciati a loro stessi in queste condizioni e non credo che sia assolutamente tollerabile in una città come Milano che da una parte fa la lotta al privato, laddove ha l'immobile abbandonato, magari anche al piccolo privato che sono magari tanti eredi e hanno un piccolo pezzamento e fanno fatica a mettersi d'accordo per trovare una soluzione, mentre il grande gruppo invece, i medici del vascello piuttosto che altre situazioni hanno più facilità ad allungare i tempi, a trovare soluzioni differenti per aggirare le regole, invece poi c'è il piccolino che è obbligato dal comune a muoversi di corsa e magari non riesce a trovare una soluzione e rischia di perdere la cubatura perché ha un immobile in stato fattiscente, poi dopo ce l'abbiamo anche noi come comune, questo non deve assolutamente succedere, possono anche rimanere vuoti, possono anche non trovare una soluzione nell'immediato, ma devono assolutamente essere messi costantemente in sicurezza. Sì, devono essere monitorate, chiaramente pur gli abbandoni e poi succedono queste cose. Poi le vedete così queste immobili, ma in realtà sono palazzine liberti. Sono molto belle. Hanno un pregio notevole, ovviamente poi purtroppo la situazione attuale è questa. Barberis. Parliamo su diversi livelli, dal micro al macro. Allora, sul micro due settimane fa è stata fatta un'importante azione con le forze di polizia proprio per riuscire ad avere il quadro chiaro di tutto quello che si stava muovendo all'intorno oltre Macao, che naturalmente è la situazione più conosciuta, mettiamola così. Il bando, quindi quello che si sta cercando di capire adesso, anche con l'urbanistica, perché spesso la destra pensa che si risolva tutto con la polizia o col vigile. Ci sono dei problemi, penso anche alla stazione centrale, alle polemiche di ieri, su un parco riqualificato pensato per i bambini, proprio lì accanto, proprio perché il degrado si contrasta con la riqualificazione urbana, non solo mandando un po' più spesso la polizia, perché se no il problema rimpala è come tramettere una pezza e riuscire a dare una giacca nuova. Questa è un po' la differenza. Lì bisogna chiudere gli accessi, è un'area molto complessa da presidiare, quindi oltre alla polizia bisogna capire come chiudere un'area complessa dove spesso riescono ad entrare e poi a utilizzare quegli immobili. Il tutto, saliamo un attimo di grado nella prospettiva di un bando che definirà il progetto di riqualificazione entro giugno-luglio di quest'anno, non del 23, 24, 25 e che riqualificherà tutta l'area delle palazzine che affacciano su Piale Molise e dell'ex macello, collegato agli interventi dell'ex fallimento Coppola che è l'area verde che poi divide la fermata di Dateo al Parco dei marinai d'Italia e andando avanti, abbiamo presentato oggi in commissione, con la riqualificazione del milione di metri quadrati dell'ortomercato dove abbiamo messo più di 80 milioni di Euro per riqualificare risorse che non si vedevano da 40 anni su quell'area e arrivando poi a Santa Giulia che abbiamo presentato ieri con un intervento del valore di 2 miliardi di Euro, il volto dell'est città nei prossimi 5 anni sarà ribaltato e quello che noi, e chiudo su questo, non tolleriamo è che quest'area non venga ripristinata alla legalità, la nostra premura nel non intervenire per poi spostare il problema è intervenire contestualmente alla riqualificazione, è per questo che ancora l'intervento non c'è stato. Cioè non fate un intervento spot e diciamo facciamo un intervento strutturale. Il problema di chiudere gli accessi, noi abbiamo visto anche le immagini, è che addirittura c'è la porta aperta, cioè nel senso non è che c'è, bisogna mettere una cagnetta, anche evitare che puoi mettere una roba che viene scondata da un pozz'ora. Qua dicono, poi ci dobbiamo fermare, perché c'è chi propone di ristrutturare le proprie spese, ma il Comune non vuole. No, ma è superato questo problema, lo dico nel massimo rispetto dell'ascoltatore che ha scritto, nel senso che si stanno muovendo dei capitali molto più consistenti. Quindi non c'è bisogno che intervenga il signor Rossi che dice ci penso io, giusto? Ok, ci dobbiamo fermare. Poi dove andiamo? Poi andiamo in via San Dionigi dove purtroppo a bordo strada la gente butta di tutto, è una discarica, ce l'ho aperto. Ma sono i nostri video, no? Sì, poi subito dopo ci sono anche quelli vostri. Ah no, prima c'è le scariche, scusate ho sbagliato io, pubblicità. Va bene, perché? Renault Zoe E-Tech, fino a 395 chilometri di autonomia per andare ovunque la vita ti porti. Renault Zoe E-Tech, tua da 119 euro al mese. Scopri le nostre soluzioni di ricarica integrate in collaborazione con Enel X. Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality, made in Italy. Viviamo in un mondo dove ognuno vuole far sentire la propria voce. C'è chi dice di non andare troppo lontano. Chi dice che non si può avere tutto. Ognuno è sicuro di sapere cosa sia meglio. Ma alla fine c'è una sola voce che conta. La tua. Gamma SUV Mercedes-Benz. Scopri anche le versioni full electric e plug-in hybrid. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso. A cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute. Materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una. La Mondo Flex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene. Materasai non ci si improvvisa da un giorno all'altro. Ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni. Al benessere non si rinuncia. Venite alla Mondo Flex. Troverete le novità a prezzo di lancio. E con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla Mondo Flex perché il miglior risparmio è la qualità. Ti aspetto. centralina seletro riprogrammabile. Filtri aria. Qua kit aspirazione diretta KM. Va bene. Sound booster. Molle. Ammortizzatori. Ok. E un bel ammortizzatore B-Stand Bioclo. Scarico. Remus. Sport exhaust. Ok. Pedal booster. Ciappati. Hai proprio tutto. Tutto. Sono 32 anni che facciamo questo lavoro. Siamo i re del tuning. Cosa devo dirti? Resta in contatto con Telenova. Vai sul nostro nuovo sito www.telenova.it. Scopri il palinsesto settimanale e tutta la programmazione. Anche a partire dal tuo smartphone. Rivedi le nostre trasmissioni sulle playlist o le dirette streaming. Interagisci sui nostri social. Facebook Telenova Milano e Nova Stadio. Instagram Telenova 14 e Nova Stadio underscore Telenova. Twitter Nova Stadio. Telenova. Sul canale 14 e sul web telenova.it. Rieccoci in diretta. Dove andiamo? Allora, via San Dionigi è una via sostanzialmente molto lunga e parecchio stretta tra campi, diciamo così. Per cui purtroppo a bordo strada, qui siamo davanti alle case popolari dell'Aler di quella via. E ovviamente le discariche abusive non mancano mai davanti alle case dell'Aler purtroppo. E questo bisogna dirlo. Poi andando avanti però ci sono degli orti e lì diventa qualcosa di molto problematico. Qui è la fine di un aciclabile che finisce nel nulla a Biatti. Tra l'altro è un aciclabile di Albertini perché questa risale all'epoca Albertini. Finisce nel nulla e ovviamente viene presa come uscita buona per poi svuotare le ribalte dei furgoncini, dei cantieri edili soprattutto in questo caso. Poi dicevo degli orti, lo vedremo dopo, accanto alla strada c'è un'area destinata ad orti e lì proprio sotto le piante a bordo strada c'è di tutto. Da cose da mangiare, cioè tu passi e senti un odore meraviglioso di formaggio andato a male alle dieci e mezza del mattino. Cioè diventa discariche anche alimentare. Sì anche e in più tutta una serie di altre cose come vedete tapparelle, la qualunque, ovviamente non può mancare il copertone. Lì l'AMSA passa tanto, era passata pensate la mattina stessa. E sono riusciti a ricostruire tutto questo. Questi forse sono anche i resti rispetto all'intervento di AMSA che magari c'era di tutto di più. Però alcune cose non dovevano essere lì probabilmente la mattina presto quando è passata AMSA. Nell'arco di qualche ora hanno già ricominciato gli abbandoni e gli sversamenti di rifiuti in quell'area lì. Devo dire che si presta molto quella strada, però questo non può essere una scusante per vedere queste cose qui. Quella è una roba, è cibo quello. Io vi garantisco che c'è la gente che passa con i passeggini. Non c'è neanche da dire che l'AMSA non passa. L'AMSA passa, che possiamo fare Barberis? Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare e fatto, in particolare negli ultimi due anni, è stato mettere decine di telecamere. Nelle fototrappole, sì, che noi ormai conosciamo. Dove sapevamo esserci punti di deposito abusivo, di rifiuti. Poi qui c'è una forma di degrado, anche un po' microdegrado, diffusa. Ma ci sono dei posti dove lasciano i divani, gli armadi, cose... Ma in realtà anche qui dicevano i residenti che c'erano anche grosse discariche. Non c'erano perché è abbastanza. Quindi non baffa l'AMSA, perché l'avete già detto voi. Io posso anche chiamare l'AMSA a passare. Sì, sì, non si può dire che lei non c'è. Dirli di passare. Dopo due ore. Sapete che in alcuni casi ho i cittadini che mi chiedono di togliere i cestini? Sì, anche nel mio municipio è successo, perché diventano mini discariche. Diventano quasi un punto di riferimento di abbandono di qualcosa. Nel mio municipio è successo così. Come in alcuni casi chiedono di togliere le panchine per i vivacchi. Sì. Allora, poi in realtà i cestini ci vogliono e ci vorrebbe anche un po' di civiltà. Però quando si andano avanti a comportamenti abusivi ripetuti a livello di reati ambientali, perché se molli televisori, armadie, divani, bisogna stare dietro nel monitoraggio con AMSA e forze della polizia e dell'ordine per aumentare il piano di installazione delle telecamere. Perché non basta ripulire, ma bisogna presidiare e bisogna fotografare chi fa queste cose. Sequestrare i mezzi, denunciare, eccetera. Cioè, qui siamo davanti. Forse ne servono di più. Se siamo un po' oltre l'inciviltà. No, siamo al reato. E quella è delinquenza, abbiati. Ma il problema è che le fototrapole sono sicuramente poche. Perché non sono decine, Filippo, ma sono molte di meno. Dall'ultima interrogazione che ho fatto con l'assessore, poi dopo magari mi ha dato delle informazioni sbagliate. Ma le ultime sono state acquistate con un bando di Regione Lombardia, ma non si arriva sicuramente a superare la cinquantina di telecamere. Cioè, decine, sì, anch'io sapevo cinquanta. No, io ero rimasta 23 più una decina acquistate ancora con il bando regionale. E il problema è che sarà la mia formazione da ex consigliere di zona nello scorso mandato, ma ci sono i presidenti di zona che ci sono delle aree che sono critiche, sono assolutamente segnalate, le abbiamo segnalate anche noi come consiglieri comunali in commissione, che l'assessore non ha intenzione di posizionare le fototrappole, sono posizionate in delle posizioni del tutto poco utili. Sì, mi viene in mente vicino alla ricicleria di Via Pedroni nel municipio 9, e lì è ciclico, ciclico, sempre nello stesso posto. Lì siamo andati, siamo andati lì. Ma adesso ce n'è un'altra, perché non so se Abbiati lo sa, oltre a quella cronica, diciamo. Che c'è nel peduncolo della via? No, dove c'è la fermata dell'autobus, di fronte alla ricicleria. Abbandonano lì, che dici, scusami. Sì, lì ti sembra quasi una provocazione. Attraversi la strada, esatto, ce n'è sempre. Ti sembra quasi una provocazione. Il problema... Ma ti faccio un altro esempio, anche dietro Forza e Coraggio, un E105, anche lì più volte mi hanno chiesto di mettere una telecamera, perché abbandonano i rifiuti. Però vanno messe e spostate celermente, quello che invece purtroppo non è successo. Tra le altre cose... Perché sono fatte poi per quello. Esatto, devono essere assolutamente continuamente spostati in maniera che poi si... Ricordiamo che siamo stati noi, prima metterle... Da bene, ok, però adesso... Somma, qua hanno una soluzione, non c'è bisogno di togliere cestini e panchine, ma impedire l'arrivo degli immigrati, senza poi offrirvi la sistemazione. Io credo che ci sia un grossissimo problema, grossissimo, dato da, al di là di alcune operazioni edili, che sono evidentemente dei disgraziati, ma anche da quegli sgomberi cantine, piuttosto che dai zingari che ci sono davanti a quella delle... No, gli sgomberi cantine è vero, perché si fanno dare due soldi... Si fanno dare due soldi, non si fanno... E non vanno in discarica. Perché devono pagare e vorranno fare... Però lì la responsabilità è di chi dà i due soldi... E non controlla... E non controlla... Io me la prendo col cittadino, non solo con quelli che... Eh, ma bisogna però anche educarlo il cittadino, da questo punto di vista, perché magari non ci pensa l'anziano, diceva, io faccio sgomberare la cantina... Mi prende solo 20 euro... Mi prende solo 20 euro... E' certo... Invece bisogna farci dare i certificati di corrente... No, ma questo è giusto, perché molti anziani ci cascano in questa cosa, è vero, è vero. E qualcuno è stato identificato, perché ad esempio ha svuotato una cantina, non aveva nulla, questi qua hanno preso, hanno buttato a bordo strada, peccato che c'erano delle buste, ad esempio, con l'indirizzo... Quindi l'hanno beccato... Sono andati a beccare il cittadino Nubia... Eh, lo so... Non ho nessun problema a dire, anche ad Abbiati, su questa situazione e su altre, visto che io sono convinto che questo sia uno strumento utile, e lo è anche la vice sindaco, se no non avrebbe promosso il piano, poi si può sempre migliorare. Se ci sono delle segnalazioni specifiche, io non ho nessun pregiudizio che, siccome le segnala la Lega, allora non le guardo. Due anni e mezzo, però... Due anni e mezzo che gli ho detto in convinzione... Quindi, se le vogliamo vedere insieme... Usiamo Barberis come intermediario, Abbiati. Sono cinque anni che parlo tutti. Hai visto che fa il capogruppo, magari. Va bene. Diamo lo spazio ai cittadini adesso. Allora, mandiamo la fascia e... E poi tocca a voi, reporter Telenova. Che ci mandate le segnalazioni, anzi, dopo vi ribadiamo l'invito a partecipare con le vostre video denunce. A tra poco. Dai retta a Valentina. Quando la truffa si fa viva, tu fregala. Denuncia immediatamente al 112. Condividere la tua storia ti aiuta a superare l'accaduto e a ritrovare la serenità. Scopri di più sul sito regione.lombardia.it Vedo non solo piscina qua. Ciao ragazze, vi state divertendo? Sì, moltissimo. Relax? Relax in piscina. Adesso nell'idromassaggio. Fantastico attorniato dal verde. Non potremmo chiedere di meglio, sia per ragazzi della nostra età, sia per famiglie con bambini. Noi siamo qua già da un mesetto e devo dirti che, insomma, è molto bello. Poi tra l'altro è un bel ambiente, ci sono belle passeggiate da fare, la piscina. Innanzitutto sono case belle, comunque con tutti i comfort e curate bene. E poi c'è una bella montagna, ci sono tante passeggiate da fare, i bambini si divertono. Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24? Assolutamente sì, hanno messo anche le bici elettriche, riusciamo a fare anche delle pedalate, ottimo. Lo consigliereste quindi ad amici, parenti? Sì, sì, assolutamente. Passione, competenza e professionalità, questo è Ruggero Moto, una struttura moderna e all'avanguardia, completamente dedicata alla manutenzione delle motociclette di qualsiasi marca e modello. La stessa passione e la competenza, unite a una cura maniacale dei dettagli, sono alla base dei restauri di Ruggero Moto e dei tagliandi eseguiti con scrupolosità e utilizzando solo i migliori prodotti presenti sul mercato. Se ami la tua moto, regalale le cure di Ruggero Moto, a Dai Rago. Da Estetica alla Creta, per la cura del corpo disponiamo di tecnologie all'avanguardia, quali radiofrequenza, pressa terapia, endosfere, oppure scegliere di godere dei classici trattamenti manuali, come massaggi specifici, bendaggi, fanghi, scrub corpo. Oltre a tutti questi servizi, il nostro salone offre alla propria clientela servizi di osteopatia, trucco semipermanente e tattoo con personale altamente competente e qualificato. Estetica alla Creta, 20 anni di esperienza al vostro servizio. Vi aspettiamo! La testa è finita, nuova Land Rover Defender 90 è arrivata. Sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars, proprio nel cuore di Monza, per farvela scoprire. Nuove motorizzazioni 6 cilindri in mild hybrid e con Freedom Plus può essere tua con 12.000 euro di anticipo, 36 rate da 370 euro e tra 3 anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto. Scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it Vi diamo il benvenuto all'hotel Ambasciatore di Cattolica, situato a soli i 50 metri dal mare. La nostra famiglia è qui per accoglierti, coccolarti, secondo la miglior tradizione romagnola, grazie a una bellissima piscina con vasca idromassaggio, tantissimi servizi per i piccoli ospiti, animazione in spiaggia e mini club in hotel, un servizio navetta da e per la stazione ferroviaria, un parcheggio gratuito a pochi metri dall'hotel e la nostra cucina romagnola, il fiore all'occhiello dell'ambasciatori. Visita il sito hotelambasciatoricattolica.it o chiama 0541 96 3198. Rieccoci, allora, reporter Telenova, tocca a voi. Sì, tocca a voi. Allora, bisogna tirare un po' le orecchie al primo reporter Telenova. Perché ha fatto le immagini male? No, perché ha fatto le immagini andando in macchina. Cioè, io capisco tutto, però il camera car lasciateli fare ai professioni. e guarda bene le immagini. Però effettivamente ha voluto denunciare, perché questo è un qualcosa che abbiamo già visto mille volte. Sotto i ponti della ferrovia, purtroppo, dormono sempre più persone. Cioè, questo è un pazzo, mentre guida fa le immagini. Esatto, tante persone, soprattutto quelle di il ponte, non tanto quello di Viale Brianza, ma quello parallelo, diciamo così. Non la circonvallazione della 90-91, ma l'altra. Colonna Potonale. Eh? Colonna Potonale. Colonna Potonale, esatto. E qui vedete che, l'abbiamo rallentate noi ovviamente le immagini, c'è proprio una persona che sta dormendo, sdraiata lì, non mi pare sia notte, anzi mi pare che sia mattina già inoltrata, e vuole segnalare, ci ha scritto, oltre a mandarci le immagini, che effettivamente questa situazione continua a perpetrarsi, e da tanto tempo, e peggiora in maniera cronica da parecchi mesi. Questo è il primo cittadino reporter. Partiamo da Biati stavolta. Ma la situazione lì è così, credo, da due o tre anni. Forse anche di più. Sì, però così grave, io ho visto sinceramente, adesso erano solo un paio di tende, ma ne ho viste molte di più sotto quella... La sera è piena, perché si accampano la sera. Il problema è che è mattina qua, molti sono già andati via. Era giorno. Ma lì è tutta quell'area lì, tutto intorno, sia sotto il ponte, che poi anche nelle aree di Mitrofe. Io non voglio ricordare quel imbarazzantissimo video a sfondo rotico, possiamo dire, lì vicino, dove c'era nella piazzetta, che c'era quella ragazza sudamericana. Quello che ha fatto girare e decorato. Esatto, quello che insomma... Comunque la zona è quella. È comunque lì, diciamo che vicino alla stazione centrale. Comunque il viale è molto trafficato, è sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo come sia possibile che una città come Milano non sia in grado di recuperare queste persone. Ma perché poi non sono solo lì, cioè se fossero due, tre, dieci casi isolati, sarebbe anche, perché ci sono anche molti che non vogliono essere accompagnati a superare questo problema. Quando non sono solo una decina, ma sono molti di più. E quando, mi spiace dirlo, spero che sia solo un problema del Comune di Milano, che non ci sia in giro. Quando incontri delle persone che sono lì per essere sfrattate, ma ancora non hanno lo sfratto in mano, e i servizi sociali del Comune non sono in grado di offrire nulla in quel momento, finché non vengono sfrattate le persone direttamente da casa, credo che poi si generino anche tutte queste situazioni gravissime. E credo assolutamente che ci voglia più impegno. Sicuramente ci sono i dormitori, ma va implementato ulteriormente. Il problema dei dormitori è che non è che ci vogliono andare tutti. Ma io infatti non collegherei il tema degli sfratti. Adesso non è neanche solo quello, scusami, una cosa sola, non è neanche più solo quello. In epoca Covid adesso c'è il problema del dormitorio e anche il fatto che ci sono le turnazioni, perché ovviamente c'è una problematica di meno posti. E certo, di distanziamento. Poi vanno a finire a mezzanino e sono uno attaccato all'altro dormire. Se parlate con le per fortuna tante associazioni, e nessuna città in Italia ne ha tante quanto Milano, che si occupano di senza tetto sia durante il giorno che la notte, vi raccontano quanti si rifiutano anche davanti all'offerta di un posto. Tant'è che si sono specializzati anche su un'assistenza dove gli danno un pasto, anche un pasto che possono scaldarsi chimicamente, gli danno un ricambio di biancheria, gli danno il sapone, gli danno una fornitura anche per l'igiene personale, sapendo che molti, anche se c'è il posto, non vogliono andare. Perché la cosa che forse non passa... Quelle strutture aprono le docce, cioè molta gente va a farsi la docce e poi va a dormire. E che molto spesso il senza tetto non è una persona semplicemente che ha perso tutto, non ha più risorse. Ci sono storie di grandissime difficoltà psicologiche. Assolutamente. Per cui sono anche situazioni più complesse da affrontare. Non è che basta dargli qualche cosa. Occorre una presa in carico più complessa che per fortuna tante associazioni stanno cercando di sviluppare anche con servizi diurni. Venendo però più alla parte legata a questa specifica situazione, la polizia locale a me dice che ci va tutte le settimane a fare gli allontanamenti. E poi tornano. Uno vede e poi quando si allontanano c'è un giorno in cui si sono stati allontanati e il giorno dopo rientra. Quindi anche qui, anche qua, il punto è come posso riorganizzare strutturalmente quella zona perché, a parte che io non riesco a immaginarmi l'aria che c'è lì sotto. Perché forse la notte c'è un po' meno traffico, ma è irrespirabile, Gabriele. È una cosa... Qua mi dicono purtroppo è così in tutte le grandi città e soprattutto nella zona delle stazioni. Beh, questo è vero. Allora, la cosa anche qua che dobbiamo accelerare... Molti semplicemente hanno perso il lavoro. Non è solo questo. Ci sono anche questi casi, però ci sono molti casi di problemi psicologici. C'è una difficoltà che va molto oltre solo la perdita di rendito di lavoro. Comunque, qui la grande sfida è la riqualificazione dell'asse dei magazzini raccordati della stazione centrale che sono questi due chilometri lineari lungo San Martini e Ferrante a Porti dove è stata riqualificata la parte esterna. Però la sfida è quello che cambierebbe il volto del Municipio 2 perché già, ad esempio, se sei stato a Greco, non so se siete stati... Fate vedere ogni tanto anche qualche cosa di riqualificato perché se no... No, ma non ci siamo. Andiamo avanti, se no. Se uno va a vedere Piazza Greco, ci sono dei lavori bellissimi di riqualificazione con servizio, una cascina ristrutturata e i magazzini, perché cito Greco? Perché arrivano proprio alla fine sull'incrocio tra Martesana e Greco e lì c'è un potenziale molto bello di riqualificazione. Ok, andiamo avanti. L'altro cittadino, anzi, reporter Telenova, è andato, anzi arriva, diciamo perché lui probabilmente vive non lontano da lì, via, com'è che si dice? Delle Mene. Delle Mene, perché io sbaglio sempre l'accento. Questa è Cascina Boldinasco. Municipio 8. Sì, Municipio 8. Cascina Boldinasco si chiedeva il nostro telespettatore perché questa cascina, che tra l'altro era stata occupata dai Rom, era successo di tutto di più, una volta sgomberata dovevano partire dei lavori e lui dice che non sono partiti mai i lavori ed è ancora, dice lui, occupata perché ci sono delle finestre aperte, si vedono, ci ha scritto a volte dei segnali come il fumo, altre cose di vita all'interno e quindi dice che c'era un progetto per strapparla finalmente al degrado e invece siamo di nuovo così. i Rom erano lì anni fa, quando sono stati sgomberati, è passato tanto tempo Barberis. Lì cosa fate? Partiamo a breve oppure è tutto bloccato e perché nel caso è tutto bloccato? Allora, voi saprete della discussione che c'è stata anche con Regione, sulla norma di urbanistica, perché il problema molto spesso è che mandi le forze, liberano e ritornano. Mandi, liberano, ritornano, quindi mi spiace tornare però è proprio il punto discriminante far partire gli investimenti per riqualificare quell'immobile, in alcuni casi sono immobili privati, che è esattamente il punto che noi abbiamo posto, capire come trovare un punto di equilibrio, adesso non voglio fare il ragionamento giuridico sofisticato, ma la base del ragionamento è quando il diritto di proprietà prevale sull'impatto negativo che ha sulla comunità e sul territorio del esercitarlo lasciando abbandonato e al degrado il proprio immobile, perché lasciare abbandonato e al degrado il proprio immobile non ha un impatto solo sul proprietario. Noi abbiamo definito questo limite dicendo se tu entro un anno non ti muovi a riqualificarlo, perdi moltissime volumetrie dei diritti che hai lì per riqualificare, ti perdi il valore, perdi una parte consistente del valore. Perché abbiamo discusso animatamente con Regione? Perché Regione ha spostato questo termine per riqualificare a cinque anni. Io non sono contrario all'idea di Regione di dare anche un incentivo positivo, però deve essere agganciato a una scadenza più a breve termine, se no queste 200 ne abbiamo mappato, situazioni di degrado, noi abbiamo le mani legate, perché sono proprietà privata. Comunque lì c'è un progetto... Cioè dovremmo intervenire noi e poi farci rimborsare, rischia di non essere mai rimborsati. Lì però c'è un progetto di... in teoria esiste un progetto che non è partito, di co-housing tra l'altro, per cui in realtà doveva partire qualcosa e non è partito. Nel 2013 sono stati sgomberati Roma e poi c'è stato tutto un rallentamento, diciamo, a Biatili. È un altro di quei casi, diceva giustamente Barberis, alla fine non è che è sempre facile far partire le cose, anzi spesso è molto complicato. Ma magari fallisce l'impresa, non riesce più a recuperare cosa, c'è un ricorso per cui si rallenta e si rallenta al punto che fallisce quello che aveva vinto prima. Però il problema qui è che se c'è questa cosa, quantomeno la messa in sicurezza per evitare che venga rioccupato, che dovrebbe essere a carico di... Dovrebbe essere a carico di... Barberis dice non veniamo mai rimborsati, però in realtà è anche giusto che il pubblico forse, chiedo ad Abbiati, lo faccia comunque di mettere in sicurezza uno stabile. Ma lo facciamo anche. E però non lo fai neanche sui tuoi, perché alla fine abbiamo visto prima Macao, cioè non Macao, ma le Palazzini Liberti di Bianco. Quelli di fianco. Cioè, qua dici bene, va bene, io sono d'accordo sul fatto che, tant'è vero che poi anche Regione ha cercato una mediazione. Io spero si trovi velocemente, tra l'altro. No, perché se poi il PGT vuole essere più stringente, lo può essere. Però una situazione del genere potrebbe avere dietro due, tre, quattro eredi che non riescono a mettersi d'accordo. Ed è una roba piccolina. Cioè, il problema è, quando mi dici sulle grosse posso anche essere d'accordo, perché c'è un grosso intervento da fare e ci mancherebbe altro. Questo è un intervento relativamente piccolo. Un intervento che magari il privato non è in grado di fare da solo e magari non è in grado di mettere in sicurezza da solo. Qua non stiamo parlando di un grande immobiliarista che sta sfruttando o ha messo a bilancio un immobile che vale milioni di euro e poi in realtà non li vale e quindi avrebbe una minusvalenza incredibile e quindi ci sarebbe il problema che poi è quello per cui è stata fatta quella norma del PGT. Ci sono delle situazioni in cui il piccolo magari è in difficoltà e da dove il piccolo è in difficoltà il comune non può tirarsi indietro. Tu hai parlato di 200 immobili mappati ma ce ne sono anche 50 del comune. L'Omero è lì abbandonato a se stesso. Abbiamo votato un emendamento al bilancio nel 2019 per sgomberarlo. Per mettere in sicurezza l'area è esattamente tutto come era prima con tanto di lana di roccia in giro. E non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Scusate. C'è una domanda specifica. In Viale Ungheria numero 5 ho comprato un bilocale. Sono andato nelle cantine ho visto schifezza parecchie cantine piene di spazzatura e macerie da anni. Il comune può intervenire? Allora lì... Nivello sanitario. L'unica sarebbe quella. No, diamogli un consiglio. Tutto per intervenire adesso magari se abbiamo il civico faccio fare una verifica specifica. Numero 5, sì. Facciamo fare una ricerca. Ok, e così diamo delle risposte concrete. Per capire chi può intervenire. Chi può intervenire visto che dice ho comprato la casa e poi mi trovo in questo contesto di schifezza. Va bene. Doveva andare a vedere anche la cantina. Però va bene. A parte questo. È vero. Magari la sua è pulita. Quelle di fianco fanno schifo probabilmente. Va bene. Pubblicità e poi andiamo a Ponte Lambro. Ponte Lambro perché c'è il simbolo della rinascita del quartiere che purtroppo non decolla. Diciamo così. A tra poco. Alta ai ladri. È arrivato. Ecco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari. Ecco 3 Top. Il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro. Inattaccabile. Elegante. Confortevole. Certificato in classe 3. Anti-effrazione. Ecco 3 Top. È sicuro. Con una costruzione geniale e rivoluzionaria. Con ampi spazi fra le ante e il telaio. Dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco. Con serratura a doppio pistone. Avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio. Con cerniera scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale. Con snodo brevettato e incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza. Ineguagliabile. Ecco 3 Top. È inattaccabile. È unico. Dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza. Cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili in un unico sistema di sicurezza. Al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Ecco 3 Top. È elegante. Realizzato con un design semplice e piacevole non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza dona anche eleganza alla vostra casa. Ecco 3 Top. È confortevole. Grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm aumenterà il comfort della vostra casa difendendovi anche da insetti e zanzare. Ecco 3 Top. È economico. Ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Ecco 3 Top. È molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione. sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché? Spendere il doppio. Con Ecco 3 Top. La sicurezza per la vostra casa non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom dove vi renderete conto che con Ferrynots la sicurezza è di casa. Con Ecco 3 Top. Doppiamente sicuri. Doppiamente soddisfatti. Nonna, io e te insieme facciamo delle pizze fantastiche e buonissime e ti voglio un sacco di bene. Quindi ti dico che se qualche cattivo ti imbroglia non devi vergognarti. Può capitare a tutti. Diciamolo a mamma e papà e chiamiamo il 112. Non è vero che non serva nulla. Dai retta, Davide. Quando la truffa si fa viva tu fregala. Denuncia immediatamente al 112. Condividere la tua storia ti aiuta a superare l'accaduto e a ritrovare la serenità. Scopri di più sul sito regione.lombardia.it Eccoci. Allora, Ponte Lambro, vai. Ponte Lambro. Le immagini partono adesso. Questa è la passerella che unisce due stabili comunali progettata da Renzopiano. La passerella è lì. La vedete? Esiste. Il problema sono le condizioni dei due stabili che dovrebbero essere collegati per fare una sorta di centro polifunzionale. All'inizio forse era questa l'idea. Vedete che sono le grate. Sono occupati da spacciatori nordafricani. Fanno di tutto di più lì. Il problema è anche che, come avete visto, le case a fianco sono abitate da cittadini normalissimi. Sono case aler, in buona parte. vivono sostanzialmente in contatto con questo scenario di contesto, diciamo, di degrado. Dietro, lo vedremo poi, c'è la parte retrostante delle case aler dove c'è di tutto. C'è immondizia abbandonata, auto rubate con finestrini spaccati. vedete qua le case attaccate a questa che invece non è una casa ma è purtroppo una situazione abbastanza, no, molto problematica direi più che abbastanza. In tanti hanno fatto servizi reportage lì. Io quando sono andato dietro non ci volevo quasi credere per quello che ho visto. Poi quando torneranno le immagini lo vedrete. Abbiati, questa situazione qui doveva essere quella passerella il simbolo del nuovo Pontelambro, quartiere. Invece in realtà purtroppo siamo in queste condizioni ancora adesso. Sì, tra le altre cose con questo intervento si sono persi mi sembra una quarantina di alloggi popolari che erano appunto le due palazzine che dovevano diventare questo centro civico e quindi sicuramente non si può mica pensare di lasciare una situazione del genere. Come l'avete detto bene, intorno ci sono sicuramente persone tranquille che vorrebbero vivere serenamente. Qui siamo nel retro. Tra l'altro la zona purtroppo è un po' sfortunata perché comunque tra autostrada tra ferrovia insomma è in una zona un po' distaccata dal resto della città fermo restando che c'è anche un altro stabile del comune di Milano lì poco va più avanti dopo la curva andando verso via degli umiliati che ha dentro alcune palazzine alcuni rom che fanno bello il cattivo tempo sono stato qualche mese fa a vedere la situazione è abbastanza grave non è a questo livello ma poco ci manca in una casa che comunque nei box c'erano auto in questo stato in una casa tranquilla direi che in quest'area qui va fatto probabilmente quel progetto li poteva essere molto interessante perché comunque va ridata dignità a tutto quel quartiere che lo merita e pur sempre Milano e pur sempre la nostra città e credo che degli interventi mirati per andare a trovare un superamento di queste condizioni sia dispensabile adesso Barberis qui lo vediamo queste sono il muro che vedete poi lo vedrete meglio sono le casette di Aller dove devi mettere l'immondizia fuori c'è questa roba qui motorini cannibalizzati tagliaerba carcasse di tagliaerba proprio lì ecco qua proprio lì appoggiati al muro di una casa della spazzatura diciamo così si anche queste sono di scariche volanti è una situazione soprattutto anche di sicurezza per chi vive lì dentro e per chi vive vicino soprattutto abbastanza drammatica era andato pure a fuoco in realtà quello che che mi ha detto la polizia locale oggi è che l'area è stata messa più volte in sicurezza e ci entrano e di nuovo per cui questo lo dico anche per chi guarda da casa cioè alcune diciamo dei segni di degrado che vedete il problema non è che sono lì da dieci anni ma magari ci sono state decine di interventi decine di volte si è ricostruita quella situazione l'area è monitorata quello che mi dicono appunto dalla polizia locale che non ci sono state nuove intrusioni per cui non c'è diciamo un peggioramento nuovi soggetti che sono arrivati poi se ci sono altre informazioni sono il primo a volerle raccogliere questo però è quello che mi dice la polizia locale ancora una volta il punto è che lì tra problemi burocratici fallimenti delle aziende che dovevano portare avanti i lavori siamo ancora davanti a un intervento ce ne sono migliaia in una città decine di migliaia giustamente questi sono quelli dove ci sono state delle situazioni infelici di fallimenti di problemi burocratici di rallentamenti per cui anche una riqualificazione così pregiata con il più importante architetto italiano al mondo è infatti quello che fa un po' storcere il naso fa l'umore vedi che anche un intervento così può incagliarsi poi nei problemi di burocrazia o nei problemi di gestione delle imprese interessate il messaggio però ai cittadini è che la situazione è ben presente e monitorata e spero di riuscire a breve a darvi anche qualche informazione in più sullo sblocco dei lavori ok perfetto andiamo in via Bonfadini perché c'eravamo stati poco prima del grande sgombero che è stato effettuato due settimane fa c'era stato lo sgombero del campo in uno dei due campi grossi c'è stato tutto lo sgombero il problema è che in via Bonfadini dalla parte opposta dove c'è il campo Roma per capirci dei sinti abruzzesi che purtroppo conoscono tutti nella zona perché effettivamente sono lì e sono fissi da tantissimo è arrivata la carovana e siciliani di noto ci sono i notini i notini e gli abruzzesi la carovana che fa questo che state vedendo è quella di noto è quella di noto che si è spostata da medici del vascello ed è andata qui questa è un'area dove c'era italiani questo lo specifichiamo sono sinti italiani questa è un'area in cui sorgeva la casa del custode la villa del custode di Sogemi dell'ortomercato sostanzialmente buttata giù c'è l'area spianata così il problema è che lì adesso c'è una colonia felina e un po' di galline che vengono accudite da una signora da una nonnina da una nonnina amabilissima che però deve convivere ormai da un mese con la carovana dei Rom che va lì a fare nottata e vedete questo è medici del vascello che sono quelli di noto sono quelli di noto sì fanno nottata e lasciano tutto quello che avete visto e che rivedrete se adesso Domenico Zingaro torna all'inizio della clip e ce lo fa rivedere bottiglie falò resti e ovviamente ci ha chiesto lei proprio la nonnina di darle una mano perché la situazione che sta vivendo è abbastanza e lei vive lì da sola? no non vive lì però lei accudisce i gatti e le galline che stanno lì alcune galline poi spariscono a volte gliele rubano gliele mangiano no mangiano non credo le cucinano le mangiano crude poi le ritrova però quindi sono dispetti molto spesso abbiati parti tu e poi c'è il problema che tra le due come dire carovane o meglio tra il campo e la carovana non è che corra buon sangue perché giustamente quelli che sono lì storicamente da tanto non è che gradiscono il fatto che arrivino questi quindi c'è anche qualcuno che sottolinea occhio perché se poi succede qualcosa vi mettiamo sull'avviso prima perché potrebbe capitare che qualcuno si arrabbia di quelli che sono lì da tanto abbiati intanto Rubo 10 secondi per fare i complimenti alla signora perché ci sono tante signore che si occupano delle colonie feline a Milano che hanno una passione una tradizione pazzesca per cui tutto il nostro ringraziamento per quello che fanno anzi forse ci sarebbe da fare un po' di più da parte dell'amministrazione non è una critica è un incentivo uno sprono per fare qualcosa per quanto riguarda il problema delle carovane direi che è sempre lo stesso e l'unica cosa è continuare anche qua continuare a controllare controllare che siano in regola controllare che non facciano niente di illegale controllare che non facciano sversamento abusivo di rifiuti controllare che in maniera che o si adeguano alla legislazione vigente oppure si trovano delle soluzioni per cui si accompagnano laddove devono stare dei delinquenti perché se alla fine comunque anche il reato ambientale di sversamento di rifiuti magari delle volte bruciano plastiche bruciano materiali pericolosi e vanno puniti severamente secondo la legge c'è poco da fare non si può continuare a pensare che ma poverini ma è il loro modo non credo che si parli di poverini no Barberis non mi sembra che voi abbiate questo noi abbiamo fatto questa inclusività con delinquenti di sgomberi di insediamenti perché non sono neanche i campi se uno va a vederli uno a uno sono tre rulotti in fila due rulotti in fila e vai e gli sposti e vanno nell'altra via e poi ritornano di là e non puoi sequestrarli in mezzo perché in mezzo è l'unico magari casa o similcasa di residenza per cui hai anche degli strumenti giuridici spuntati poi questo processo ha delle recrudescenze in estate per cui anche c'è una stagionalità per cui aumentano questi insediamenti abusivi che a volte sono così piccoli che davvero vai e li sgomberi anche perché se fosse stata una cosa così piccola il problema è che li porti via di là e vanno da qualche altra parte Riccardo decorato gran visir dei persecutori di tutti i roma in vent'anni da vice sindaco non mi sembra che abbia risolto il problema quindi no perché se li sposti da un posto vanno nell'altro quindi è il principio dei rasi comuni perché quando mettono gli archetti per evitare che arrivi la roulotte adesso loro hanno preso i minivan così hanno fregato pure il fatto degli archetti i portali non servono più a niente a volte anche anche lì uscire dall'idea solo persecutoria perché pensare anche ad alcuni stalli dove possono mettere la roulotte riducendo al minimo il degrado è una roba che ti fa urlare voi siete gli amici romani il problema è che a volte devi capire anche pragmaticamente come fare queste cose qua non ha funzionato vediamo anche cosa non ha funzionato io vi dico Lim Bonfadini e in quell'area lì sento tutte le settimane il presidio più importante di socialità che c'è che è Ausonia che è un centro sportivo riqualificato con tantissime storie bambini e è un avamposto di civiltà perché lì hanno avuto davanti il mercatino delle pulci per usare ecco che si è riusciti per fortuna anche utilizzando il covid a chiudere perché hai ben presente ma in piazzale cuoco adesso si è spostato questo è l'altro problema però lì non c'è più lì è chiuso e poi hai questo sottopasso su un ponte adesso hai chiuso il ponte con il jersey con il cemento solo che sono messi dove possono fanno un giro mi chiamano mi mandano le foto tutte le settimane tutte le settimane mandiamo la polizia locale lì la cosa che stiamo cercando di fare visto che ci sarà una profonda riqualificazione dell'area Sogemi ancora una volta torno lì ma evidentemente perché non è una soluzione campata in aria è una riqualificazione più strutturata di quelle aree anche limitrofe ad esempio al centro sportivo attraverso un impegno anche diretto di Sogemi ok va bene va bene ci fermiamo ci fermiamo perché poi abbiamo l'ultima tappa dove stanno per costruire il palazzetto per l'olimpiade in vera quindi qualcosa di positivo perché appunto lì sono dei lavori che porteranno il lustro quello di cui parlava eh sì la riqualificazione dell'area est di Milano portano tante cose poi dopo ve lo dico sì abbiamo non tantissimo tempo ma qualcosa ci dirà ebbè se la parte positiva due secondi è certo è così noi siamo malvagi noi siamo malvagi siamo così cattivi va bene al 12 secondi almeno chiudiamo pubblicità passione competenza e professionalità questo è Ruggero Moto una struttura moderna e all'avanguardia completamente dedicata alla manutenzione delle motociclette di qualsiasi marca e modello la stessa passione e la competenza unite a una cura maniacale dei dettagli sono alla base dei restauri di Ruggero Moto e dei tagliandi eseguiti con scrupolosità e utilizzando solo i migliori prodotti presenti sul mercato se ami la tua moto regalale le cure di Ruggero Moto ad Airago a Misano Adriatico nel cuore della Romagna la famiglia Casa Dei ti aspetta Hotel Atlantic Riviera in ambienti accoglienti e totalmente rinnovati goditi una vacanza speciale nella nostra spiaggia piscina panoramica e una nuova area benessere con splendida vista sul mare e per rigenerare corpo e mente potrete gustare la nostra cucina legata alle nostre tradizioni Hotel Atlantic Riviera a Misano Adriatico telefono 0541 61 41 61 visita il sito Atlantic Riviera punto com ciao a tutti sono Rossana vi parlo da Triumph Sesto San Giovanni via le fratelli Casiraghi 427 qui abbiamo la nuova Tiger Sport 8 e 50 11.004 prezzo franco concessionario due colorazioni disponibili è appena arrivata quindi vi aspettiamo in concessionaria per potervela illustrare e speriamo di averne una anche per farla provare però questo ci aggiorneremo più avanti intanto vi aspettiamo buona giornata a tutti ciao Vamag tecniche di collaudo presenta One Stop questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo le prestazioni dei freni e delle sospensioni lo stato della batteria la diagnosi della centralina lo stato dei pneumatici e altro aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova rulli presente sul mercato frutto di ben 35 anni di esperienza Vamag dal 1981 European Quality Made in Italy Hai già scoperto il mensile benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute con benessere ti prendi cura del tuo corpo mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista non perdere il nuovo benessere in edicola soli 2,90 euro La Tecnostars Formichetti opera da sempre nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti tv digitali terrestri e satellitari impianti dedicati con cave in fibra ottica per portare il mondo televisivo e di internet in tutte le case Tecnostars di Formichetti a Milano in via Benaco 27 zona Corso Lodi Ah! interviene anche in caso di problemi di ricezione di telefonia cellulare Siamo noi siamo noi i migliori antennisti siamo noi Diventa anche tu reporter Telenova invia i tuoi video al numero 366 21 31 894 video denunce o filmati che mettano in risalto cose belle della vostra zona linea d'ombra speciale quartieri li manderai in onda ogni venerdì sera dandovi spazio e voce perché è il nostro viaggio per Milano e anche il vostro e così lo sarà ancora di più reporter Telenova ti aspetta non mancare Rieccoci allora dentro il cantiere per il palazzetto delle Olimpiadi Santa Giulia per il palazzetto delle Olimpiadi c'è uno specchio d'acqua che dici ma come fa ad esserci un laghetto non solo c'è il laghetto ma è popolato è un posto dove nidificano uccelli migratori cioè non migratori uccelli stanziali dai cigni ai cavalieri d'Italia c'è un ambiente favorevole è una sorta di ambito lacustre in cui c'è anche una fauna lacustre soprattutto di uccelli ornitologica diciamo così stagno direi sì ok è uno stagnetto però adesso poi vedrete le foto nidificano sicuro perché ci sono anche i cigni con i cignetti piccoli che li seguono c'è una foto bellissima io vi farei sentire prima ancora di vedere le foto quello che ci ha detto Francesco Rocca che è consigliere del municipio 4 in quota fratelli d'Italia che sabato andrà a fare insieme all'onorevole Frassinetti un sopralluogo lì per insieme alla la Lipu e forse anche quella lega per la protezione degli uccelli e forse anche qualcuno del WWF per capire un attimo qual è la situazione sentiamo quello che dice lui poi rimandiamo le immagini comprensive di foto e sentiamo che cosa che cosa si può fare se si può fare qualcosa prego Rocca un'area verde immensa dove proprio in questo momento in questo periodo abbiamo la nidificazione di diversi volatili ci sono visti aironi cavaliere d'Italia germani reali qui abbiamo una fauna da salvaguardare quindi la nostra richiesta e il nostro appello è salvaguardare prima la fauna esistente e poi realizzare i lavori considerando quello che è presente qui ecco l'idea loro è mettere in sicurezza tra virgolette quell'area che non è enorme non è tutta l'area cantiere quindi non è che dice di non fare il palazzetto certo nessuno può dire di non fare il palazzetto proteggete proteggete quello stagno però di tutelare in qualche modo quel particolare ambito non so se sia più possibile Barberis perché credo che quella si può fare il palazzetto e non so se si potrà fare qualcosa lei sa se si potrà fare qualcosa no allora io su questo sinceramente non ho avuto ad oggi notizie che è possibile tenere l'ambito perché ricordiamo qui stiamo parlando di un intervento che è atteso da 20 anni dove ci saranno più di 360 mila metri quadrati a verde anche con un nuovo specchio d'acqua e il punto purtroppo noi dobbiamo fare delle scelte e nelle scelte ci esponiamo anche a critici a me spiace non è che dico non mi interessa e anche il fatto che ci siano cittadini che hanno la sensibilità di attenzione alla natura al verde alla fauna è una cosa che non voglio mortificare il problema è che a volte ci si trova in una condizione in cui magari per far ripensare il progetto su quell'area per renderlo compatibile con lo stagno dovremmo bloccare tutto magari per altri due anni e questo vi dico già che non succederà non succederà anche perché è troppo tempo che si sta aspettando e quello è un quartiere cioè per salvaguardare questa oasi faunistica bisognerebbe ritardare troppo i lavori naturalmente nel rispetto degli animali anzi magari anche l'esperienza di quello che è avvenuto lì può essere qualche cosa da recuperare nel momento in cui si sposta lo specchio d'acqua e si va beh però spostarlo già non è sufficiente il problema è che questi qui sanno dove andare e se vanno lì e non trovano più lo specchio d'acqua non è che dicono ce n'è un altro di fianco e vado lì come si è creata quella situazione dove sono andati ritornano se si ricrea un habitat verde con anche lo specchio d'acqua l'unica cosa che potrebbe venirmi in mente ma credo che non sia possibile almeno stando a sentire quello che racconta non si può fare il nuovo specchio d'acqua lasciarlo in quella particolare zona almeno lì vicino lo sa benissimo anche Abbiati i costi di bonifica di quell'area sono passati da 25 milioni a 200 milioni che è una delle ragioni fondamentali c'è sotto di tutto lì non c'è specchio d'acqua che tenga perché io se devo bonificare un terreno o lo bonifico abbiamo delle zone adesso mi viene in mente un'area che mi sta a cuore all'incrocio con viaghini non so c'era una scuola con l'amianto che è stata bonificata demolita ma c'è il terreno contaminato e a me piange il cuore che vedo un'area verde inutilizzabile perché non è sicura se noi dobbiamo comunque ribaltare tutta la terra per riuscire a bonificare il terreno quello lì lo devi sacrificare va sacrificato sì ma allora intanto si potrebbe fare delle valutazioni perché il problema è adesso che stanno edificando perché poi si può anche trovare una soluzione per spostarli per trovare un modo di non farli quindi si può fare una valutazione ma figuriamoci il problema è che quel laghetto che si è creato si è creato perché erano state fatte le prove per capire cosa c'era da bonificare nel terreno cioè quello scavo era proprio creato per capire per fare i carotaggi per capire quanto fosse contaminato il terreno sicuramente sono e c'è stata una brutta no però a vederlo sembra sembra un oasi proprio naturale poi all'interno comunque della città perché comunque dentro nella tangenziale est sono stato a vederlo qualche periodo fa sicuramente si potrebbe valutare attentamente visto che l'opera primaria l'ho detto anche in dichiarazione l'altro giorno è sicuramente il palazzetto quello dobbiamo fare adesso senza perdere tempo per le olimpiadi ma su quello siete d'accordo tutto il resto potevamo anche fare delle valutazioni differenti è chiaro che nel momento in cui anche il palazzetto in mano al privato come ho detto l'altro giorno sicuramente si va a però attenzione a sottostare anche alle storie richieste lasciamelo dire ripeto io capisco il ragionamento che hai fatto ci mancherebbe altro ed è giusto valutiamo cerchiamo di valutare cerchiamo nella sessione di valutare l'opportunità di aspettare di intervenire su quella specifica area in maniera che nel periodo di identificazione finisca si superi questo periodo e poi si faccia le valutazioni del caso per fare in modo di spostarlo non torneranno magari nell'immediato se però l'intervento sul verde è positivo magari in futuro poi ritorneranno da soli se si riesce ad avere un impatto di intervento il meno traumatico possibile per la fauna figuriamoci se non siamo disponibili da valutare l'unica cosa dimmi parla tu perché mi stanno mandando tutto un è vietato espressamente il danneggiamento e la distruzione dei nidi nonché il disturbo deliberato dalle specie protette di uccello risulta evidente come in tua opera di diradamento della vegetazione sarebbe quindi un'opera di danneggiamento e distruzione dei nidi con la conseguente morte dei giovani ancora presenti negli stessi c'è una legge la legge 157 barra 92 per la tutela della fauna selvatica se la stanno mandando riusciamo a gestire questa situazione transitoria senza andare a distruggere i nidi o a penalizzare la fauna la risposta facciamo tutto il possibile quell'area può rimanere nel medio periodo no diciamo anche questo scusatemi non c'è solo il palasport che tra l'altro sarà un palazzetto per lo sport e per la musica nell'idea dei costruttori oltre l'inviadi naturalmente ma lì ci saranno scuole di tutti i gradi ci saranno oltre 60.000 metri quadrati di edilizia convenzionata ci saranno una nuova sede del conservatorio verde piazze percorsi pedonali quindi è davvero una rivoluzione urbana positiva e io spero che al di là di chi vinca le prossime elezioni questo progetto si porti avanti in maniera più spedita possibile perché ha un impatto oggettivamente positivo su un'area importante di tutto il sud di Banese che è stata proprio legata anche ai tempi delle bonifiche e ai costi ricorderanno tutti quello è uno dei punti in cui poi viene fuori l'afferra grossi va bene ci dobbiamo fermare dobbiamo salutarci dobbiamo salutarci no 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 è molto interessante questo telespettatore che ci ha mandato questo documento che segnala che viene fatto un reato sostanzialmente dice che se si distruggono dei nidi dove ci sono delle specie protette qua appare che ci siano delle specie protette si va incontro ad un reato poi non lo so vediamo che cosa succede che non succeda come è successo è un telespettatore che ce lo segnala come è successo con la vasca del parco nord che è stato fatto un intervento da un giorno con l'altro in pieno giugno che non era d'altra parte io capisco anche che interrompere un'opera di riqualificazione come quella di Santa Giulia non è che uno lo fa perché ci sono questi nidi questo capisco però capisco anche i naturalisti che invece tengono a questo aspetto va bene allora ricordiamo la nostra iniziativa rapidissimamente cittadino reporter reporter Telenova mandateci i vostri video perché poi durante la trasmissione arrivano le segnalazioni viene in corso l'odi viene di qua viene di là mandateci anche solo 20 secondi di riprese fate col cellulare metteteli col cellulare ce lo mandate se sono da approfondire veniamo verrò io col camera facciamo quello dobbiamo fare se invece basta la vostra segnalazione le mandiamo in onda e ne parliamo con i nostri ospiti come abbiamo fatto oggi e poi magari insomma da cosa nasce cosa speriamo in qualche modo che poi l'amministrazione contribuisca a risolvere i problemi che vengono segnalati grazie a Filippo Arberis grazie a voi grazie a Gabriele Abbiati grazie a voi buona serata grazie a Domenico Zingaro e a Silvio Valsecchi in regia grazie ad Adriano e grazie a Jacopo Casoni ormai siamo coordinati come un'orchestra va bene ci vediamo venerdì prossimo buonanotte grazie a tutti grazie a tutti